Turni massacranti, demansionamenti e ferie accumulate. Si fa sempre più critica alla situazione del Policlinico Riuniti sulla quale tornano i sindacati, Funzione Pubblica, Cigelle, Cisl e Will, per evidenziare la mancata attenzione da parte del Direttore Generale sul piano dei fabbisogni professionali del Policlinico proposto appunto dalle organizzazioni sindacali. Un ospedale che continua a vivere di criticità e disagi e la forte carenza di personale picchia ancora più forte sulla tenuta del Policlinico e con la pubblicazione della delibera 434 del 16 luglio sull'albo pretorio del Policlinico Riuniti contestata nel suo contenuto dai sindacati si è semplicemente fatto rilevare dicono che non vi è un'animità sindacale come riportato in delibera travisando la realtà dei fatti e di quanto accaduto invece nel tavolo del 12 luglio quando i sindacati hanno abbandonato il dialogo. Una mancanza di rispetto nei confronti delle organizzazioni sindacali che hanno dunque ritenuto importante e indispensabile lasciare il tavolo negoziale ma fatto ancora più grave è la mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, di tutti i dipendenti del Policlinico Riuniti che continuano a vivere di emergenze. Abbiamo contestato il piano triennale del fabbisogno del personale perché lo riteniamo inadeguato nei numeri e nei profili professionali previsti, scrivono le sigle sindacali, per garantire oggi e per il futuro l'assistenza sanitaria necessaria alla popolazione della nostra provincia. Inoltre i sindacati evidenziano e denunciano i turni massacranti a cui sono posti i lavoratori, i demanzionamenti, l'accumulo di ferie arretrate e di servizi vari per carenza di personale o perché il personale è distribuito male nel Policlinico. E la forte carenza di personale la si evince anche nelle criticità denunciate ogni giorno dal pronto soccorso di Foggia, dagli utenti che si recano al pronto soccorso di Foggia e dove aspettano lunghe ore prima di essere visitati. Una situazione che sta determinando una grave e inaccettabile criticità e disagio degli operatori, dicono i sindacati, nello svolgimento delle attività dei servizi e unità operative e della necessaria assistenza sanitaria agli utenti. Sebbene le relazioni sindacali sono venute meno restiamo sempre disponibili a ritrovare un percorso di relazioni tra le parti improntato sulla correttezza e la buona fede che ci ha sempre distinto e che continueremo a fare. Se ci sono le condizioni concludono i sindacati con la direzione strategica del Policlinico riuniti di Foggia.